Io sono Lorenzo Monaco e quello che state per vedere è qualcosa che è avvenuto nel 1976. Il 1976 è l'anno che vede il successo degli ABBA e un esperimento che è stato definito l'esperimento più bello della fisica. Quantum, sei bello, è l'esperimento più bello della fisica. Ed è veramente l'esperimento più bello della fisica, o almeno così sancì un sondaggio del 2002 della rivista Physics World, quello proposto dallo spettacolo di Tecnoscienze. L'esperimento è quello dell'interferenza ad elettroni singoli e a renderlo ancora più bello c'è che tutto italiano. Venne infatti documentato utilizzando un microscopio elettronico da un gruppo di ricerca del CNR di Bologna nel 1976. Certo occorre capirci qualcosa di fisica quantistica per apprezzarlo, ma questo ci pensa a Lorenzo Monaco, che fra lanci perpendicolari di superparticelle e punti di vista stranianti su noi stessi come osservatori, ci accompagna passo passo nei meandri più tortuosi del mondo dei quanti.